Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come essere amministratore proprio amministratore il controllo completo di tutto il pc su windows 10 e windows 11 ovviamente è lo stesso metodo su tutti e due sistemi operativi quindi in questo caso tu vai a scrivere nella barra di ricerca gestione computer una volta cliccato su gestione computer vai su utenti gruppi locali e vai su gruppi e qua c'è il gruppo amministratori gli amministratori hanno privilegi di accesso completo e senza limitazione al computer cliccateci sopra e come puoi vedere qui ci sono i membri nel gruppo degli amministratori vai su aggiungi vai su avanzate trova e devi trovare il nome del tuo dispositivo che hai dato al tuo pc ovviamente qui come puoi vedere c'è il nome TonyGiver 17 ho dato così questo nome per farti capire che io per esempio clicco qua sopra amministratore TonyGiver 17 faccio ok come puoi vedere mi ha messo il nome TonyGiver 17 la sbarra amministratore e faccio ok e dice che l'amministratore è già nell'elenco quindi io già sono amministratore del mio computer quindi in questo caso tu devi trovare il nome del tuo computer oppure il nome del tuo pc il percorso il percorso come puoi vedere il percorso a me è TonyGiver 17 poi in questo caso puoi anche modificare le impostazioni A per V qui è più per i giochi per esempio Bluestacks 5 l'emulatore Android su Windows quindi in questo caso ogni tanto chiede di abilitare questa cosa e se non sei amministratore non puoi abilitarla quindi se per esempio ci clicco sopra come puoi vedere il membro sono io ok quindi ho aggiunto il mio nome del computer qua dentro e puoi anche aggiungere l'account Microsoft quindi in questo caso se tu hai un account Microsoft come puoi vedere percorsi faccio avanzate trova scendo fino a giù fino a trovare TonyGiver 17 faccio ok come puoi vedere mi ha aggiunto così l'email la mia email che ho messo sull'account Microsoft quindi in questo caso se tu hai un account Microsoft e hai fatto anche l'accesso sul tuo sistema operativo puoi mettere direttamente il tuo account e il tuo nome come puoi vedere TonyGamer staccato 17 anche sul mio nome star TonyGamer staccato 17 ed eccolo qua e lo aggiungo e dice che Tony è già nell'elenco quindi io sono amministratore del mio computer quindi puoi farlo su tutte queste procedure per essere proprio amministratore completo di tutto il pc se hai problemi commenta se non hai capito riguarda la guida su come aggiungere il tuo nome nel gruppo degli amministratori quindi o lo trovi qua sotto o lo trovi su profilo proprio modifica impostazioni account o trovi trattamento su impostazioni account qui puoi anche vederlo sul sito della Microsoft e gestire così il tuo account qua sotto quindi come ho detto se avete problemi commentate se vi è stato utilissimo lasciate like se non avete capito la guida riguardate così la guida e grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao